Buongiorno e benvenuti a Zoom sulla città, la rubrica di approfondimenti della nostra web tv sulle attività del comune di Napoli. Siamo oggi con l'assessora Emanuela Ferrante per parlare di sport. Buongiorno assessora. Salve, buongiorno a voi. Dopo nove anni torna a Napoli il Giro d'Italia, il 14 maggio avremo la tappa cittadina. Siamo mettendo in atto tutta una serie di organizzazioni su più piani perché oltre al Giro in sé che prevederà una corsa di 153 chilometri lungo tutto il percorso litorale da Napoli fino a tutta la zona flegrea, naturalmente c'è tutto un indotto, c'è tutta una serie di attività circostanti, quindi è un evento importantissimo per la nostra città. Per questo motivo chiedo a tutti i cittadini, alcuni dei quali naturalmente ci hanno chiesto e hanno manifestato un po' di dispiacere per il disagio che probabilmente si creerà, di avere pazienza e di capire quanto sia importante e che risonanza possa avere anche a livello internazionale questa tappa, anche perché il disagio, ovvero la chiusura del traffico ci sarà soltanto il giorno 14 dalle 10 alle 17, ma sicuramente ne guadagneremo per tanti altri aspetti. Sport per la cittadinanza, state lavorando per rendere fruibili le palestre delle scuole alla cittadinanza anche al di fuori dell'orario scolastico? Sì, questo è un impegno che sto portando avanti insieme al vicesindaco, alla professoressa Filippone, perché sappiamo che ci sono 150 scuole comunali dotate di palestre, non tutte agibili, quindi abbiamo inviato un questionario a tutti quanti i dirigenti scolastici per avere innanzitutto contezza della situazione dello stato delle palestre e successivamente per poterle poi aprire e mettere a disposizione tutte le associazioni sportive, perché abbiamo pochi impianti sportivi e quelli che abbiamo, le palestre che abbiamo, dobbiamo necessariamente cercare di aprirle, di renderle fruibili a tutte le associazioni e a tutti i ragazzi naturalmente della nostra città, perché sappiamo bene quanto il valore inclusivo, il valore sociale importantissimo dello sport. Il PNRR riguarda anche due progetti per lo sport per la città di Napoli? Due progetti, uno per la costruzione di un impianto sportivo nuovo, si tratterà, se chiaramente dovessero approvare il nostro progetto alla presidenza del Consiglio, di un impianto polifunzionale che quindi comprenderà tre discipline sportive nella zona di, della Municipalità di Scampia. E poi invece un altro progetto che è anche stato presentato, per il quale speriamo di avere, di ricevere i finanziamenti, riguarderà il rifacimento della piscina, la riapertura della piscina Prota Giurleo, la piscina di Ponticelli, che conosciamo perché è stata veramente, ha dato spazio ai più grandi campioni olimpionici italiani e napoletani del nuoto. e unitamente alla piscina riusciremo, sempre che venga approvato questo progetto, anche a ristrutturare i campi, dei campi che attualmente sono abbandonati e che sono campi di tennis, pallavolo e palacanestro, che riusciremo a rimettere in sesto e quindi a donare di nuovo alla collettività. Piscina Scandone è stata riaperta a dicembre, ma nel frattempo sono stati fatti dei nuovi lavori. La piscina Scandone è stata la prima piccola vittoria che posso dire di avere avuto perché sono riuscita a farla riaprire dopo mesi di difficoltà per lavori che si dovevano fare necessariamente. Adesso abbiamo fatto anche altri lavori per i quali abbiamo avuto un finanziamento e finalmente, penso si tratterà proprio di giorni, riusciremo ad aprire anche la seconda piscina, la warm-up, che è una piscina che sappiamo è molto importante per quelli che si devono riscaldare anche in vista delle partite. Quindi è una questione veramente forse di una settimana, dieci giorni, riapriremo anche la seconda piscina e quindi riapriremo l'intera struttura alla cittadinanza napoletana. Per quanto riguarda la promozione dello sport, è in arrivo un protocollo con il CONI? Sì, in giunta abbiamo approvato già il protocollo con il CONI. Naturalmente il CONI ci aiuterà innanzitutto in una mappatura di tutti quelli che sono impianti sportivi, in una verifica anche delle condizioni di tutti gli impianti sportivi. Ci aiuterà quindi anche nei progetti degli stessi attraverso gli ingegneri che potranno aiutare i nostri e quindi poi ci aiuterà e insieme creeremo dei progetti nuovi proprio per la diffusione e la promozione delle attività sportive in tutta la città. Venerdì 6 maggio una fiaccolata si muoverà dal mare verso Palazzo San Giacomo. Di cosa si tratta? Si tratta della fiaccolata paraolimpica, una sorta di step in funzione di quelli che saranno i giochi nazionali paralimpici che si terranno a Torino il prossimo mese di giugno, i primi giorni di giugno. Sarà bellissimo vedere questa fiaccola che si muoverà dal circolo Savoia e arriverà fino in piazza Municipio dove appunto verrà accesa la fiaccola olimpica. Mi piace ricordare un evento che abbiamo fatto pochi giorni fa ma che a breve renderemo istituzionale che è il calcio al razzismo. Abbiamo raggruppato 19 squadre di comunità straniere che vivono e lavorano a Napoli che hanno gareggiato con la nazionale dei parlamentari, con la squadra della questura e con la squadra del tribunale ed è stato un momento veramente importante di unione e di inclusione tra persone diverse, tra comunità diverse e quindi credo che questo sarà un messaggio che noi sicuramente esposeremo e cercheremo di mettere a disposizione i nostri campi per farli giocare e per includerli nella nostra comunità. Grazie di essere stato con noi, buonasera. Grazie a voi. Grazie. Grazie.